buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di maturità 2023 le ultime novità prima di iniziare gli esami domanda numero uno qual è il compenso per un docente che porta gli esami due classi quinte piuttosto che una sola possiamo affermare che al commissario interno che operi su due classi della medesima commissione o anche di commissioni differenti spetterà un compenso lordo pari a 900 o 399 euro più altri 399 euro per la seconda classe questo è il compenso lordo teniamo conto però che anche se conteggiata una sola volta verrà correlata una un compenso per la distanza minima entro i 30 minuti ovvero 171 euro diciamo queste sono i compensi all'ordo chiaramente con poi le trattenute che sono almeno un 30 per cento al netto è legittimo seconda domanda è legittimo correggere e valutare le prove scritte dell'esame di stato per aree disciplinari senza coinvolgere l'intera commissione almeno della classe chiaramente di quella classe e è utile sapere che ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del decreto legislativo 62 del 2017 le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta per cui sì la correzione può essere fatta da un'area disciplinare dunque da una sotto commissione ma poi per quello che riguarda la ratifica della valutazione finale deve essere coinvolta l'intera commissione terza e ultima domanda come deve fare un presidente di commissione a notificare ai candidati interni o anche agli esterni il calendario dei colloqui ai sensi dell'articolo 15 comma 6 della ordinanza ministeriale 45 del 9 marzo 2023 al termine della riunione plenaria il presidente della commissione da notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna commissione o a ciascuna classe della commissione questo fa intendere che le classi post potranno avere date differenti nella pubblicazione degli esti dei risultati delle prove scritte il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno attraverso l'area riservata del registro elettronico cui accenono tutti gli studenti della classe di riferimento dai candidati esterni il che il calendario verrà trasmesso via email dunque attraverso la posta elettronica speriamo che la risposta a queste domande sia utile ai nostri telespettatori seguiteci ancora nei nostri canali social youtube facebook e nel nostro sito www.technicalescola.it perché parleremo di questa tematica e di tante altre nei prossimi giorni arrivederci a tutti